Val D'Arno, terra attrattiva per le imprese. Apre il Burger King a Terra Nuova Bracciolini. Uno dei marchi più grandi della ristorazione mondiale sbarca in Val D'Arno e lo fa assumendo 35 nuovi dipendenti, ristrutturando un ex area industriale in tempi record, solo 45 giorni di lavoro e bonificandola dall'amianto, con un investimento di un milione e mezzo di euro. Con il direttore generale Doris Di Bella le selezioni sono partite già diversi mesi fa. Abbiamo fatto le selezioni in piazza, quindi pubbliche, sono arrivati mille curriculum, abbiamo selezionato 200 curriculum, quindi 200 persone, in quattro ore ci siamo portati a casa i nostri 30 eroi. Sono stati formati nelle 4-5 settimane prima dell'apertura e ora le trovate appunto nel punto vendita. Non solo cibo, infatti il locale ha l'obiettivo di diventare un punto di intrattenimento per le famiglie, con un piccolo parco divertimenti che sarà ampliato nei prossimi mesi. Alessandro Lassi che fa parte della società che gestisce ed è titolare del punto vendita, perché il Valdarno? Il Valdarno perché è una zona nevralgica, noi la conosciamo perché siamo Lassi anche dei trasporti, quindi conosciamo molto bene questa zona. È un punto di snodo fondamentale, noi siamo già presenti a Rezzo e è una zona di transito, una zona interessante, è una zona che si sta molto bene sviluppando, quindi noi crediamo molto bene in questa zona, in area del Valdarno. Si presenta non più come il classico fast food in cui si passa solo un quarto d'ora, si è di transito e si è di fretta e soprattutto non c'è neanche molto altro che mangiare un panino da fare. Qui c'è la possibilità di passare anche un paio d'ore della nostra giornata. La proprietà tiene a specificare che il cibo è italiano e che tutto il processo di preparazione è interamente svolto al momento. Entro l'estate poi l'area si ingrandirà, con un nuovo ristorante e un vero e proprio parco divertimenti interamente al chiuso, previsti ulteriori 20 posti di lavoro e 500 mila euro di investimenti. È una situazione difficile economicamente, però questi risvolti, queste realtà, come dire, danno un po' di speranza. È un investimento importantissimo, oltre un milione di euro, che ha permesso di recuperare un'area vastissima e difficilmente recuperabile in altre forme. Un vecchio stabilimento che ormai era fatescente e in disuso, riqualificato, come potete vedere, un ambiente molto bello. Questo appunto si presenterà come un nuovo centro di aggregazione sia per terra nuova che per i valdarno a tutto.